salve mi chiamo antonio e vengo dall'italia dunque un mio amico mi ha girato un link per accedere a un sito dove era mostrato un letto quantistico medbed per cui incuriosito ho subito cercato di capire come funzionava questa tecnologia e in pratica poi mi sono subito convinto a fare un test di otto ore al che ho fatto tutte le procedure ho inviato la foto e tutto quello che era richiesta appunto dai requisiti insomma e quindi ho provato subito la tecnologia devo dire che stavo passando un periodo con un calo di energie mi sentivo stanco e quant'altro e ho detto beh vediamo se effettivamente questa tecnologia mi può tirare un pochettino su ed è stato effettivamente così perché diciamo fin dei primi minuti ho percepito insomma che il tutto stava funzionando e quindi diciamo il primo test è durato qualche minuto e ho avuto subito la sensazione sceso dal letto che qualcosa era cambiato insomma mi sentivo già meglio mi sentivo già in forza detto beh se con due o tre minuti io ho risolto questa diciamo già mi sento così bene immaginiamo dopo aver fatto il test di una durata maggiore e quindi dopo un po di ore ho ripreso a fare il test della durata di circa due ore e mezza e lì effettivamente ho potuto vedere un cambiamento di un certo tipo quindi dallo stato di benessere mi sentivo più rilassato più calmo e questo diciamo mi ha fatto capire appunto che la tecnologia insomma è straordinaria per cui diciamo credo che questa debba essere tecnologia veramente alla portata di tutti perché qualcosa di assolutamente straordinario grazie